pasta estiva alle melanzane e mozzarella e e e e e e e Grazie a tutti. 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 Andiamo a cuocere la pasta. Saliamo l'acqua al bollore. E buttiamo la pasta. Questo condimento è perfetto anche come il contorno. I pomodori sono cotti, unisco le melanzane e lascio insaporire. Aggiungiamo la pasta. La pasta è cotta e la uniamo al condimento. Aggiungere un po' di acqua se manca alla pasta. Ed infine a fuoco spento unisco la mozzarella. Ed infine a fuoco spento unisco la mozzarella. Aggiungere un po' di acqua.